L'ora era la mia migliore amica, per tutta la vita. Prometto che veglierò su sua figlia Lucy e su suo marito David. Non te l'ho detto, ho chiamato David. David? Sì, non l'hai fatto tu, ci ho pensato io. Che eleganza! Non ti piace? Sì, ma è tanto che non... Usciamo, ho fatto uno sforzo. Mi farà bene prendermi un po' di tempo per me. Carina, no? Ha un vestito molto bello, è vero. Che cos'hai? Hai esagerato con la cameriera, David ha appena perso sua moglie... Dai, si capiva che non era interessato. Adoro il tuo rossetto, ti sta benissimo. Che ti succede? Perché mi chiami? Devo ripeterti. Vai a letto con David, è questo? Ma no, come ti viene in mente? Buongiorno, signora. Non dirlo a nessuno, sarà il nostro segreto. Non lo so. Hai conosciuto qualcuno? Una donna, molto dolce. Lei mi capisce, senza giudicare. Sei malato, David. Non posso sprecare così la mia vita, è parte di me. È assurdo continuare così. È una follia. Lo so. Quali segreti nascondi? Dobbiamo fermarci.